Questa è la storia breve triste di un pezzo di legno che voleva essere un bel dipinto e invece questa tesi mi sta uccidendo Bene, la lavagna luminosa è una cosa fantastica, è incredibile Oh, è porca matita, mi cade sempre il tappetto della matita, ma... Tetta Così Bro, drink water, please Bacon Con... C'è tipo Gimp che è fantastico e quando tu fai l'animazione per vedere un po' come viene è così zoomato, no? E non puoi assolutamente rimpicciolirlo E quindi puoi vedere soltanto una parte dell'animazione, cioè è geniale Che poi no, stavo pensando, se ci pensi... Niente, ho fatto un video magico incredibile, che roba E niente, io sto abbastanza bene, un po' disagiato E ho la finestra aperta, non so se si è... Ma insomma i corsi alla fine, la revisione segna la fine dei corsi, io questa roba non la capiremo mai No, la fine del corso è l'esame, ma... La fine del corso? È l'esame Ha, 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 ha